Scusa, sto tritando la cipolla per fare un soffrittino e occhiali speciali comperati a Parigi per evitare di lacrimare. Ma prima devo mettere in ordine gli oli extravergini d'oliva qui nella mia piccola cucina. Sì, oli, mettiamoli puntini sulle i. Sono tanti gli oli extravergini d'oliva in Italia e ognuno porta con sé i sapori, i profumi della propria terra e quindi per ogni ricetta ci vorrebbe un olio extravergine d'oliva diverso. Non ci credi? Allora accetta l'invito dei produttori di olio di UP Riviera Ligure. Vieni in Liguria 15-16 giugno e potrai visitare gli Olivetti, vedere i frantoi, assaggiare, vivere un'esperienza www.olivetiaperti.it 15-16 giugno Grazie su questa preparata per la vostra offerta. Grazie! Grazie a tutti. Grazie a tutti。 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti